La sfida diventa sempre più complessa, però qualche idea l'abbiamo e credo che riusciremo anche quest'anno a dare un contributo perché lo spettacolo sia più emozionante. Noi facciamo con impegno il nostro mestiere, devo dire grazie a tutti quelli che lavorano in Pirelli per il lavoro straordinario che stanno facendo, continueremo con lo stesso impegno, con una duplice motivazione, una ovviamente è quella aziendale e l'altra è di dare quel piccolo e modesto contributo perché l'immagine d'Italia sia all'altezza delle sue qualità.